Se volete bene a qualcuno non regalate mazzi di fiori ma di asparagi. Come ormai da tradizione in primavera Confcommercio promuove l'ortaggio made in Piacenza con una rassegna capace di coinvolgere tutta la provincia. Fino al prossimo 16 maggio 15 ristoranti proporranno piatti e interi menu dedicati all'asparago dagli antipasti al dolce. Un'occasione per sottolineare una volta in più la qualità del prodotto offerto dalle aziende unite all'interno del consorzio Asparago Piacentino. Purtroppo in questi giorni che sono i giorni migliori di mercato, che sono i primi giorni di raccolta, si inizia verso il 10, all'inizio di aprile si arriva in piena produzione fino a metà maggio ma anche fino a fine di maggio, questi giorni un po' di freddo e di pioggia non stanno aiutando. Quindi chiedo clemenza ai nostri clienti che si recano nelle aziende e fanno fatica magari a trovare il prodotto perché sta producendo poco. Altrettanto però devo ringraziare assolutamente i ristoratori che hanno aderito a questa rassegna perché è un veicolo per noi molto importante per far conoscere il nostro prodotto e farne apprezzare la qualità. Ecco la sua ricetta preferita con l'asparago? Io sono innamorato degli asparagi e il modo più semplice di cucinarli quindi asparago da solo senza nessun condimento. Siamo soci del consorzio dal 2009, soci fondatori, quindi lieti di promuovere un prodotto d'eccellenza come quello dell'asparago, un prodotto versatile che si presta a diversi usi, diversi ricette dagli antipasti, il primo e il secondo, il gelato, quindi una versatilità del prodotto molto importante e prodotto d'eccellenza del nostro territorio. Oltre alla rassegna verrà organizzato in sinergia con l'Accademia della Cucina Piacentina un concorso per chef amatoriali che si sfideranno a suon di piatti dedicati proprio all'asparago che vinca il più buono.